È una Liguria che cresce, trainata soprattutto dal comparto turistico che segna quasi un più 40 per cento, ma sulla quale pesano diverse incognite l'inflazione, l'indisponibilità e il rialzo dei prezzi di alcuni fattori produttivi, tra cui quelli energetici, l'evoluzione del conflitto russo-ucraino. Luci e ombre nell'aggiornamento congiunturale sull'economia ligure realizzato dalla sede genovese della Banca d'Italia. Nei primi tre trimestri del 2022, l'attività economica in Liguria ha continuato a crescere, seppure con un andamento differenziato tra i principali settori. Bene dunque il turismo, le presenze sono cresciute del 38,9 per cento rispetto al 2021, andando oltre i livelli pre-pandemia grazie al raddoppio dei pernotamenti da parte degli stranieri. Ha rallentato invece il comparto industriale, ma in un trend di crescita solo un'azienda su tre ha segnalato valori non positivi rispetto al 2021, con le previsioni a breve termine degli operatori che prefigurano una sostanziale stabilità dei volumi produttivi. La redditività delle imprese ha risentito soprattutto dell'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare quelli energetici. Gli aumenti dei prezzi di gas ed energia elettrica hanno determinato una riduzione dei margini di profitto per circa un quarto delle aziende. E' continuata l'espansione dell'attività edilizia, spinta dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo e dalla prosecuzione dei lavori alle principali opere infrastrutturali. Secondo i dati provvisori segnalati dalle casse edili, le ore lavorate sono aumentate per il quarto semestre consecutivo, così come è proseguita l'espansione delle compravendite immobiliari, cresciute di quasi del 14% nel primo trimestre dell'anno rispetto allo scorso. Il quadro congiunturale favorevole si è tradotto in una crescita degli occupati, più 4,3%, più marcata per i lavoratori dipendenti, più 5,3%, e per la componente maschile, più 5,8%. All'incremento degli occupati è corrisposta a una riduzione delle persone in cerca di lavoro. Ne è derivata una flessione del tasso di disoccupazione che si è attestato all'8,3%, dato in linea con la media nazionale. Le forze di lavoro sono aumentate del 2,8%, portando il tasso di attività al 70,7%, un livello superiore a quello precedente la pandemia. Nel contempo, nei primi nove mesi dell'anno, il ricorso alle forme di integrazione salariale è fortemente diminuito.